Dopo una settimana di esposizione a Palermo è giunta a Caltanissetta la mostra Migranti, la sfida dell'incontro, che ha per tema la complessa vicenda delle migrazioni. È stata presentata nel corso dell'edizione di quest'anno del meeting per l'amicizia tra i popoli a Rimini, raccogliendo un significativo gradimento dai numerosissimi visitatori, lo stesso che ha ricevuto a Palermo dove è stata visitata da più di 1500 persone. A Caltanissetta sarà ospitata a partire da oggi, mercoledì 15 febbraio, negli spazi del Museo Mineralogico dell'Istituto Mottura in Viale della Regione. Tutte le mattine dalle 9 alle 12.30 domenica esclusa fino al 25 febbraio. La mostra consta di 39 pannelli che illustrano i tanti aspetti della tematica e alcuni video di illustrazioni statistiche di testimonianze. L'Istituto Mottura non poteva non raccogliere l'opportunità e la sfida di questa importante mostra sui migranti. itinerante perché parte da Palermo ma continuerà ancora. In collaborazione con la società cooperativa Etnos e con altri istituti cittadini come la Pietro Leone, l'Istituto Russo, i nostri ragazzi stanno diventando protagonisti di questa nuova cittadinanza planetaria. Insieme alle testimonianze di rifugiati, insieme alla collaborazione della prefettura, dell'assessorato alla solidarietà sociale, ebbene i nostri ragazzi presentano una mostra che da immagini diventa volto. È il volto nell'incontro-scontro delle nuove generazioni e appunto di nuove culture e tradizioni e che diventa sfida per poter decostruire appunto il pregiudizio, che è giudizio acritico. E allora nel volere ritessere insieme appunto l'identità che deve essere planetaria, nel volere ricostruire, rivolere, chiamare a gran voce questi diritti che sono diritti di uguaglianza, diritti alla cittadinanza, ecco, dei nuovi migranti e dei migranti, per far sì appunto che tutto questo si volga in speranza, in speranza, ecco, che l'immigrazione, l'immigrazione possa diventare futuro. La mostra di oggi, che oggi viene inaugurata, ha il pregio di inserirsi in un momento storico abbastanza complesso, che sta al centro del dibattito sia nazionale che locale. Ed è importante perché induce i ragazzi soprattutto a riflettere su un tema che è molto attuale, spazzando via magari dei pregiudizi, oppure i soliti discorsi che si sentono sul tema. Quindi induce a riflettere, a comprendere meglio quello che sta accadendo nel nostro paese oggi. In questo senso ogni iniziativa del genere è da auspicare, è da ritenere utile e opportuna, in quanto purtroppo sappiamo benissimo come nei social media oppure in altre, sui giornali talvolta, ci sono dei dibattiti più che altro di carattere politico più che altro sul tema. Invece qui i ragazzi vanno al nocciolo, secondo me, del problema studiando, analizzando i volti dell'immigrazione e le storie, quello che ci sta dietro, ecco, le lacrime e il sangue dell'immigrazione. Quindi con questo lei spiega perché prima ha criticato la stampa sulla posizione che prende sull'immigrazione? No, io non ho criticato la stampa, nel senso che la stampa riporta poi in fondo quello che è il paese. Quindi se la stampa magari tratta argomenti in un certo modo è perché gli attori lo pongono in quel modo, ma se un attore importante come la scuola lo pone in modo costruttivo un tema del genere, ecco che la stampa giustamente interviene, anzi è benvenuta la stampa che fa un servizio ai cittadini e ai ragazzi.